Io non voglio disilluderla, né sono un amico della persona di cui adesso vi voglio evidenziare, ma è rimasto solo il senatore Gibbino in sala. Comunque, un applauso per questo, perché anche da questo si dimostra poi la presenza della politica, quindi è rimasto fino alla fine. Presidente Righi, vogliamo concludere? E' bello comunque che vi siate trovati così, da posizioni diverse però convergenti, perché alla fine fa pensare un po' che esiste un paese sano che cerca di alzare la testa, cerca di contrastare, solo che dobbiamo arrivare poi ai fatti concreti alla fine. Io sentirei di dire provocatoriamente che tra un anno, se volete non vengo io, magari mi siedo qui in prima fila, richiamiamo la politica e diciamo Scusate, ma vi ricordate con la registrazione che avete detto un anno fa? Perché non è possibile. Speriamo di no, un po' più di fiducia, un po' più di ottimismo. Sta citando Keynes, a cui dicevano che questo è un progetto a medio-lungo periodo e lui diceva che nel medio-lungo periodo saremo tutti morti, quindi hai fatto una citazione perfetta, la dico spesso anche io. Questi tempi veloci ci portano a dover essere veloci anche noi, l'economia non ha più i tempi delle associazioni e della politica e qui è un impegno che noi ci dobbiamo prendere di agire velocemente. Io abbiamo fatto tanti appunti in giro, io parlo per i miei, non voglio parlare per quelli delle altre associazioni naturalmente, non mi permetterei, però la forza che ha un'associazione sta nei propri iscritti e nella presenza che questi mettono e nella partecipazione. In un'epoca in cui tutto è rimandato ai social media, perché la gente oggi pensa di assolvere il proprio compito sociale mettendo un Twitter su Twitter, oppure mettendo qualcosa su Facebook. fare associazionismo, fare politica, far valere i propri diritti vuol dire fare fatica, vuol dire perdere tempo, vuol dire litigare, vuol dire impegnarsi. Allora come richiamiamo la politica oggi? Sarebbe anche necessario richiamare la nostra base sociale e noi siamo di quel popolo che non protesta mai, lo dicevo prima, no? Cioè mi ricordo solo dello sciopero dei 40.000, della Fiat, che ebbe però un cambiamento epocale. Bene, io spero che ad accompagnare noi tre presidenti, o adesso uso anche per te questo tema, oltre ai politici che ci accompagneranno, di avere anche dietro la forza delle persone, la forza delle associazioni. Io se fossi stato un silente oggi sarei stato qui. Se fossi stato un dirigente, abbiamo centinaia di dirigenti in tutta Italia, io avevo il dovere di essere qui, non di essere da un'altra parte. Allora vedete bene come è facile usare la cultura degli alibi per dare la colpa sempre agli altri. Io e mio padre mi ha insegnato a guardare prima me stesso e poi a capire dove sbaglio. Allora, noi come associazione abbiamo il dovere di fare questo, io penso che lo stiamo facendo bene. Abbiamo il dovere di coinvolgere altre associazioni, abbiamo il dovere di farci sentire forte e il dovere di chi abbiamo mandato in Parlamento, nelle varie fazioni, è quello di rispondere alle esigenze, naturalmente se le ritiene opportune. Allora, diciamo subito, dobbiamo fare in fretta, abbiamo buone possibilità di farcela perché se qualcuno si schiera con noi questi poteri forti vengono demandati e l'ultima cosa, vengono aboliti, e l'ultima cosa ditelo ai vostri colleghi. Bisogna farsi sentire, bisogna partecipare e bisogna fare squadra. Così venciamo le sfide, non del futuro, dell'oggi. Grazie allora a Paolo Righi, grazie a Maurizio Bufi, a Luca Gaburro e a voi. Io direi che è stata una mattinata profigua, ma è un'opinione personale che spero condividerete. Grazie. 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 Grazie.